E' con noi il dottor Luca Severini, direttore generale Banca Cassa di Risparmio di Firenze. Buongiorno. Il gruppo Intesa San Paolo è da sempre molto attento ai confidi. Avete in animo delle iniziative particolari riservato ad essi? Confermo che il rapporto tra Banca Cassa di Risparmio di Firenze, quindi tra Gruppo Intesa San Paolo e il mondo dei consorsi di garanzia fidi è un rapporto che nasce da lungo tempo. Diciamo che è anche un rapporto privilegiato anche perché è evidente che se noi vogliamo affrontare il tema oggi centrale che è quello del credito dobbiamo affrontare questo tema facendo sistema dove per sistema personalmente intendo banche, imprese, consorsi di garanzia, fidi, associazioni di categoria sono chiamate ciascuno nell'ambito del proprio ruolo a fare la propria parte. Quando dico la propria parte intendo sicuramente a giocare di anticipo nel senso di saper leggere in anticipo quelle che sono le esigenze e le richieste delle aziende, soprattutto delle piccole e medie aziende, in modo tale da fornire le giuste risposte alle necessità finanziarie di queste piccole e medie imprese. Certo sì, la risposta è sì, stiamo facendo, anzi stiamo lanciando proprio in queste settimane un'iniziativa specifica che si chiama Crash Confidi, attraverso la quale noi solleciteremo ancora di più le nostre filiali ad un rapporto corrente con i consorsi di garanzia fidi creando una sorta di canale preferenziale in termini di velocità di risposta per le pratiche che arriveranno tramite questa iniziativa. A conferma ancora di questo rapporto stretto noi sul territorio già da tempo operiamo con delle figure specialistiche proprio che intrattengono rapporti privilegiati, rapporti primari con i rappresentanti dei consorsi di garanzia fidi. Grosso modo, quanti dei crediti concessi dal suo istituto di credito sono assistiti da garanzia di confidi? Sì, è una domanda che si riallaccia alla prima, posso dire che nel mondo del credito per quanto, dobbiamo fare una distinzione, per quanto riguarda le aziende small business, cioè a dire le aziende con fatturato fino a 2 milioni e mezzo di euro, circa il 28% delle concessioni sono assistite da garanzia consortile, mentre per quanto riguarda le imprese, cioè a dire quelle aziende con fatturato sopra i 2 milioni e mezzo di euro, la percentuale si attesta sul 10%.